Il centrodestra è pronto ad accettare l'invito del premier Conte che dopo la chiusura degli stati generali e prima di articolare il programma per il rilancio del paese vuole ricucire con le opposizioni portandole a sedersi al tavolo di Palazzo Chigi. Quando arriverà l'invito per il confronto a Palazzo Chigi Forza Italia risponderà affermativamente. Andremo a presentare le nostre proposte uniti insieme a Lega e Fratelli d'Italia come abbiamo sempre fatto sinora. Giorgia Meloni afferma ci presenteremo tutti insieme siamo una coalizione. Fino a prova contraria non è lui a decidere. Anche il capo dello Stato quando riceve le forze politiche lascia a loro la scelta su come presentarsi. Conte invece tradisce ancora una volta la sua superbia. Se poi ci fa la cortesia di mandarci il documento del quale ci vuole parlare, magari. La Lega non va controcorrente, il centrodestra è unito e non bisogna perdere tempo. Il governo convochi la coalizione. Se le intenzioni di Conte saranno finalmente serie ci presenteremo tutti insieme come in passato. A maggio i consumi delle famiglie hanno stentato a trovare la strada per un rapido recupero nonostante l'allentamento delle misure anti coronavirus e la graduale ripresa delle attività. Lo rende noto commercio, sottolineando come l'indicatore dei consumi segna un calo annuo del 29,4%. Un dato meno negativo se confrontato con il meno 47% di aprile, ma che mostra grandi difficoltà soprattutto per i servizi legati alla fruizione del tempo libero. A causa del coronavirus trascorre una giornata al mare nel 2020 risulta più costoso rispetto al 2019. Tra parcheggio, lettini, ombrelloni, consumazioni e altri servizi si arriva a spendere dal 10 al 30% in più. Lo ha affermato il Codacons, che segnala rincari dei listini a macchia di leopardo in tutta Italia, come effetto delle misure sul distanziamento e dei maggiori costi per i gestori dei Lidi. Resta l'incognita della riapertura delle scuole. Con le scuole dobbiamo stare attenti. Il tema è di importanza vitale, ma i dati sono contraddittori. Un contagio lì rischia di diventare una bomba. Lo dice Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS. I punti deboli della crisi Covid-19 oggi? Che i giovani si sentono inattaccabili e si lasciano andare a situazioni di convivialità senza regole. Come OMS europea abbiamo convocato una conferenza fra gli esperti e in Italia abbiamo la fortuna di riaprire le scuole dopo gli altri. Stavolta non siamo chiamati a fare gli apripista, ma non possiamo permetterci di sbagliare. Oggi curiamo i pazienti prima e meglio. Resta ancora difficile trovare gli asintomatici che diffondono i contagi. Avvieremo un monitoraggio delle acque reflue per riconoscere in anticipo i focolai che si riaccendono.